Buongiorno, ben ritrovati a Lex and Love. Noi non possiamo depositare la nomina fino a che non ci arriva un documento che proviene dalla stessa procura che ha in mano la denuncia e che non se la fa bastare. Questo documento aggiuntivo si chiama 335, attestazione della pendenza di un procedimento. A chi si chiede il 335? A un ufficio apposito che è stato istituito in tutte le procure della Repubblica, l'ufficio 335. Guardate che una volta, non solo quando io ho cominciato, ma per altri 15 anni, 20 anni, si andava di persona in questo ufficio che ti rilasciava un bel timbro, voleva un paio di cartuscelle e te ne ritornavi nel tuo studio dopo tre settimane. Al più tardi ripassavi dallo studio, ritiravi il documento. Ora lo attendi e lo attendi in vano, come nella nota poesia. Nel caso specifico, nel caso di Aida, io chiedo il 335 il 9 gennaio 23, perché come vi dicevo la signora a un certo punto sembrava non essere neanche tanto più interessata alla cosa. Però, in un rigurgito di violenza, in una recrudescenza di violenza, perché nel frattempo lui era ritornato, la signora torna a dirmi no, aiuto. 9 gennaio 2023, io mando tutti i documenti all'ufficio 335 della procura di cui stiamo parlando. Il 23 gennaio, non avendo ancora ricevuto alcuna notizia, sollecito il rilascio del 335 e siccome accade una cosa gravissima in quei due giorni, il 25 gennaio mi ritrovo costretta a sollecitare per la terza volta l'invio del 335, che come vi dicevo sarebbe quello che mi consente di dire alla procura sono io l'avvocato della signora. Cos'era successo? Perché tutti questi solleciti? Perché il 17 gennaio del 2023 la signora si vede recapitare a casa un avviso che si chiama avviso alla persona con offesa della richiesta di archiviazione. Cioè la procura che aveva in mano da maggio tutto questo incartamento e che non aveva ancora capito, non aveva ancora consentito a me di introdurmi dentro alla procedura e magari dare anche una mano, le dice signora ci dispiace secondo noi qua dentro non c'è nulla di penale, noi chiediamo l'archiviazione. La signora va nel panico ovviamente, io con lei abbastanza perché poi da questo momento abbiamo 30 giorni, ecco perché ho 12 ore, perché vi sto parlando il 17 febbraio. 30 giorni per opporci. Non riuscendo a depositare la nomina cosa faccio? Deposito il gratuito patrocinio, richiesta di gratuito patrocinio che la signora ha diritto a ricevere perché la signora è vittima di maltrattamenti, quindi la convenzione di Istanbul stabilisce che qualunque sia il reddito il gratuito patrocinio l'è dovuto. Comunque la signora di reddito non ne ha, quindi famo prima come si direbbe a Roma. Siamo sui 15 giorni. 0. 9 febbraio, sollecito. 0. 15 febbraio, mando un'altra PEC nella quale faccio presente al tribunale che mi mancano due giorni e la opposizione a richiesta di archiviazione mi diventa tardiva. Il 15 febbraio stesso, sono in quel tribunale per un'altra udienza, vado a chiedere in cancelleria chi sia il giudice assegnatario, a fatica riescono a dirmelo, vado dalla sua cancelliera, le chiedo a che punto sia la pratica. La cancelliera gentilissima mi dice che lui, giudice, ce l'ha in mano dal 3 febbraio. Eravamo al 15. 12 giorni bruciati per me, 12 giorni che il giudice, boh, guarda le carte e non le guarda. Chi lo sa? Vista la malparata e sempre col pensiero che mi mancano due giorni e con l'aggravante del fatto che oggi, 17 febbraio, ce lo sciaperò dei mezzi, quindi sarebbe stato difficilissimo raggiungere questa procura, che per giunta non è quella del posto dove io abito, vado a bussare alla porta del giudice e con molta serenità gli dico, sono Pinco Palla, anzi guardate, sono Alessia Sorgato, difendo la tal signora, lei ha lì la domanda di gratuito patrocinio, io ho due giorni per oppormi, ho bisogno di vedere le carte, mi risponde che non mi può fare il provvedimento perché sta studiando un processo e che me la farà e che è perfettamente inutile che io aspetti dietro la porta come un cane, perché tanto oggi, 15 febbraio, lui il provvedimento non me lo fa. Ah sì, mi son detta io. Dunque, vediamo quante chance ho davanti a me. Primo, sto zitta, me ne torno in studio, quando arriverà il gratuito patrocinio verrò a vedermi le carte e se sarà il caso scriverò una posizione, vediamo. Non si ragiona così, no, perché qua c'è la pelle di una donna e di svariati figli da difendere. Allora sapete cosa ho fatto? Che brutta cosa, sono andata dal suo capo, dal capo del giudice, sono andata dal giudice superiore a dire, toc toc, le rubo un minuto. Ho 24 ore per scrivere un atto sulla base di una serie di carte che non riesco a copiare perché ho diritto al gratuito patrocinio e non mi viene concesso e magicamente dopo due ore mi viene notificata l'ammissione al gratuito patrocinio. E cara grazia che ero ancora in quel tribunale perché avevo fatto udienza in modo tale che sono riuscita a convincere implorando le cancelliere a farmi fare le fotocopie anche se erano le quattro e mezza del pomeriggio. Ma volete sapere come va a finire questa storia? E qua veramente vi faccio ridere. È arrivato nel frattempo l'esito del 335, quello che io continuavo a chiedere dal 9 di gennaio, quello che mi avrebbe consentito il deposito della nomina, quello che avrebbe dato ingresso finalmente alla sottoscritta nel processo. Tolgo i dati sensibili, anzi non ve li faccio manco vedere, però ecco. 8 febbraio 2023 l'ufficio preposto mi scrive che non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione. Per questo ufficio questa signora non ha alcun procedimento in corso. Peccato che domani scada l'opposizione a richiesta di archiviazione per un procedimento che non solo c'è, non solo c'è, ma è gravissimo, anche perché stanno per chiuderlo. Ecco come si lavora in Italia col gratuito patrocinio. Imparate a difendervi, ma soprattutto imparate a chiedere aiuto a chi per voi andrà a bussare a quelle porte e fin tanto che non uscirà col documento che serve non se ne andrà. Un saluto a tutti da Alessia Sorgato.